Il protocollo di intesa con il Museo Ettore Fico è un protocollo che vede il cerco del restauro che collaborerà col museo con anche dei restauri sia sulle opere del museo che anche invece portando qui delle opere d'arte contemporanea e far conoscere il lavoro del centro del restauro e come si restaurano opere d'arte contemporanea anche dal vivo. Per ciò che comporta invece questa tela che noi abbiamo portato qui è stata fatta in didattica da una ragazza che ha lavorato tutto un anno per restaurarla poi mancavano ancora dei quattrini e l'associazione Amici del centro del restauro ha finanziato la possibilità di dare a questa ragazza una borsa di studio per finire il lavoro e così il lavoro è stato concluso sempre dalla stessa nostra allieva che si è laureata con noi.